Ciao, io sono Giuseppe. E io sono Giovanna. I ciclotoristi di Love Wheels 646. Il Giro del Mondo in Bici. Ogni anno abbiamo percorso chilometri e chilometri in bici con un unico obiettivo, portare il Sagno nel mondo. Tutto è cominciato con il Cammino di Santiago e da lì, il secondo anno, siamo partiti dal Sagno per raggiungere Caponord e il terzo dal Sagno a Los Angeles. Abbiamo conosciuto tante persone e tante culture. Abbiamo attraversato tantissimi territori diversi uno dall'altro e assaggiato la cucina europea e quella americana. Quest'anno il nostro viaggio ha l'obiettivo di portare il Sagno e gli Irpini in tutta l'Italia, la nazione più bella del mondo, sia per la bellezza dei paesaggi, sia per l'eccellenza dei nostri prodotti. Vogliamo diffondere la cultura del mangiare bene e del buon cibo, perché noi siamo quello che mangiamo. Porteremo i nostri prodotti tipici e incontreremo chef stellati in ogni città che cucineranno per noi piatti originali. Cultura, sport, tradizioni ed enogastronomia in un format tv da condividere con tutti voi. A presto! Ecco qua ragazzi, questi piatti che ho creato per voi. Che nome vogliamo dargli? Low Wheels ovviamente! Il nostro viaggio è appena iniziato. Seguiteci! Penso l'assaggio! Ma ci ragniamo o no? Eh, spero, almeno... Ma ci ragniamo, non ti mangi sempre? Eh, è il primo colpo dalla pò che mangio. Andiamo! Andiamo! Vai, presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti!